Per le mille interviste di oggi l'autore che vi presento è straniero. In giorni come questo devi per forza divertirti o ti odierai quando sarai vecchio. C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è qui? Io sono 35 anni ora e mi sento che non sono ancora un'americanalità americana E' quello che si chiede un millenio più vecchio Quindi ora le persone che si chiede americana sono più politicamente attivi Non sono iniziato da un'economica precarietà E ho molto spero per loro I see the Parkland teens, for example, I see the sort of continuing Black Lives Matter movement I see the resurgence of socialism and I think that these are all really good signs That said, everything is really bad right now and it's the boomers fault And I think that there is a whole really good sign of a day But they think that I'm going to struggle to stop it They think that they don't have to be happy